Eccola qui, la nostra amica lavatrice, sta funzionando anche oggi perché anche oggi sarò libera, ieri avevo lavorato nel pomeriggio, oggi sono libera, quindi come nelle migliori tradizioni, eccola lì, ve la volevo far vedere, mi è stato richiesto di farla vedere, da Andrea, ciao Andrea, eccola, vabbè vado, a presto, ciao!